Ciao ragazzi e benvenuti al parchiatto del tagliagole, oggi ragazzi in compagnia dell'amico Mauro che ieri sera è venuto con me a fare le prove in esterna e oggi lo ricompenso con una bella cena dal giapponese dove paga lui Ragazzi facciamo una comparativa tra le due sorelle True Night, la Catapool V6 e la Mini Catapool V2, via! Eccoci qui ragazzi pronti a vedere da vicino le nostre due Catapool della True Night, la sorella maggiore Catapool V6 che avete già visto nel video ragazzi eccola qua che ve la metto in primo piano E la sorellina minore Catapool Mini V2, ragazzi come vedete anche voi abbiamo delle dimensioni completamente diverse, ovviamente abbiamo una potenza diversa Vi do anche due misure, le misuriamo così ragazzi dal vivo, siamo più o meno a 8 cm per la Mini V2 e siamo a un buon 13,6,14 per la V6 Ragazzi ve le sto misurando col righello che usavo alle medie nei bagni per misurare quello che potete bene immaginare con i compagni di classe Ragazzi due torce potenti, due torce che abbiamo provato in esterna, poi alla fine vedrete anche ovviamente le prove in esterna Ragazzi ovviamente abbiamo due potenze completamente diverse, la V6 è veramente un cannone, possiamo dire che la Catapool Mini V2 Eccola qui, per ragazzi, per la dimensione che ha, è veramente potentissima Vi do anche due dati ragazzi, allora tutte e due ovviamente sono impermeabili IPX8, tutte e due possono cadere da un metro e mezzo a non farsi nulla Ovviamente non l'abbiamo provato, tutte e due hanno il corpo in alluminio, ragazzi dimensioni diverse, potenze diverse La Catapool V6 è alimentata da una 26,650, 5000 mAh Mentre la Catapool Mini V2 è alimentata da una batteria 18,350, 1100 mAh Quindi ragazzi capite benissimo che la potenza è diversa e la durata è diversa Distanza massima coperta invece ragazzi, la piccoletta ovviamente è inferiore, però arriva anche lei bella lontana Distanza massima 515 metri e distanza massima per la Catapool V6 sono 692 metri Più o meno abbiamo un 200 metri scarsi di differenza Nel bosco ragazzi la distanza, la potenza si percepisce molto, però ripeto parliamo anche di dimensioni Ragazzi abbiamo veramente una dimensione come potete vedere veramente diversa Quindi potete ben capire il peso senza batteria La V2, la Mini V2 pesa 90 grammi Mentre la Catapool V6 pensa 192 grammi Senza la batteria, parliamo sempre di pezzo senza la batteria Ragazzi vi do anche due misure sui lumen ragazzi Vi do più o meno una comparativa sui lumen Nella funzione turbo la Catapool Mini V2 fa 1108 mAh per 80 secondi Poi passa a 352 lumens per 62 minuti Mentre la nostra Catapool V6 fa 2836 contro 1108 mAh Ragazzi 2836 per 220 secondi Poi ragazzi si abbassa a 1316 per 89 minuti Ragazzi ripeto sono potenze completamente diverse Poi in esterna ve ne rendete conto benissimo Potenza alta Catapool Mini V2 abbiamo 331 lumens per 68 minuti Potenza alta per la nostra Catapool V6 1417 per 102 minuti Potenza media la piccolina mi fa 160 lumens per 3 ore La grande a potenza media ragazzi mi fa 270 lumens per 9 ore A potenza bassa abbiamo 70 lumens per la piccolina e 6.5 ore ragazzi 6 ore e mezza di autonomia Mentre per la grande abbiamo più bassa 31 lumens per 86 ore ragazzi 86 ore di autonomia la Catapult V6 In strobo per la piccolina abbiamo 331 lumens a 73 minuti di autonomia E per la grossa abbiamo 1120 lumens a 210 minuti di autonomia Ragazzi se volete vi misuro in diretta anche l'ottica Prendiamo il dentro ragazzi dell'ottica Lo vedete anche voi Qui siamo a 5 Considerate che è prospettica la visione Sono 5 centimetri di ottica ragazzi E qui invece abbiamo 3 centimetri e 1 3 centimetri e 2 di ottica Ragazzi questa l'avete già vista Allora la differenza sostanziale E anche parte secondo me Non positivissima diciamo È che la Catapult V6 Vi arriva col suo laccettino E con la sua custodia ragazzi Voi la mettete in cintura Questa l'abbiamo provata Su al raduno con gli amici ragazzi È una potenza infernale La pendete in cintura La pendete a un moschettone La mettete dove volete L'avete nella sua bella poch Invece la piccolina ragazzi Arriva Vi faccio vedere il corredo con cui arriva Ovviamente la bustina in cui è dentro La spugnetta Le istruzioni che vi faccio vedere Così se ho detto qualche dato sbagliato Li potete leggere qua sopra Ve la apro Vediamo di farvi l'inglese Ok Eccole qua Così potete fare una bella schermata E andare a vederla dopo con calma Eccole qua che ve le ho fatte vedere Mettiamola giù Dentro abbiamo il cavetto USB Type-C I sali per l'umidità Gli o-ring di ricambio Il tappino di ricambio E il lacciolo ragazzi Che si mette qua sopra Per portarla esattamente come l'altra Io non glielo ho ancora inserito La cosa che non ha Secondo me ragazzi Che secondo me si sente nell'uso È una clip Non ha una clip Infatti io la cercavo nella scatola Per capire se per caso non c'era Poi sono andato a vedermi Il contenuto della scatola Sia su Amazon Che su un altro sito Ragazzi Proprio dalla casa E non c'è Non c'è la clip Secondo me Non avendo la clip La poche diventa indispensabile Perché se no La dovete tenere buttata Nel marsupo in tasca Ok Che è piccolina Ok Che è piccolina Però ragazzi Secondo me Una clip Ci voleva assolutamente Secondo me È l'unico lato negativo Perché poi Per quanto è piccola Ragazzi Fa veramente Un mare di luce Però questa cosa Di non poterla Attaccare da nessuna parte E soprattutto Non poterla Mettere nella tasca Con la clipettina Secondo me Ragazzi Non è proprio Il massimo Ragazzi Penso di avervi detto tutto I prezzi Ragazzi Vi dico i prezzi Abbiamo 75 euro 99 per la catapult v6 Per la sorellona maggiore E abbiamo invece 59 99 per la piccolina Per la catapult mini v2 Ragazzi Andiamo a fare la prova in esterno E poi andiamo alle conclusioni finali Ragazzi Iniziamo la nostra comparativa Questa è la catapult v6 A potenza media Adesso vi faccio vedere La catapult v2 La catapult mini ragazzi Vedete la differenza a potenza media Questa è la piccolina Questa è la grande ragazzi Come vedete Ovviamente fa molta più luce Ma quello che mi sorprende ragazzi E quanto arriva lontana Quanta gittata ha Questa torcia piccolina Veramente tantissima roba Ragazzi Catapult v6 A potenza alta Adesso vi faccio vedere La mini catapult v2 Eccola qua La differenza delle potenze Siamo sempre a potenza alta Eh ragazzi Guardate la differenza Eh beh ragazzi Allora Abbiamo un cannone La catapult v6 È un cannone Però ragazzi Anche la mini Considerando quanto è piccola Ragazzi Fa un mare di luce Veramente un mare di luce Ragazzi Questa è la catapult v6 A potenza minima Vi faccio vedere La catapult v2 E come vedrete ragazzi Come vedete Ecco qua È più potente La catapult v2 A potenza bassa È più potente Della catapult v6 Che vi faccio rivedere Vedete Becca veramente Molto più lontano Questa è la piccolina Eh ragazzi Quella che state vedendo adesso È la piccolina Guardate quanto va lontano A potenza bassa Eccoci qui ragazzi Siamo nel lungo corridoione Del bosco Questo è un sentierone Che porta giù A cabiate Che è l'altro paese Ragazzi Abbiamo la nostra v2 A potenza alta Adesso vediamo subito La v6 Eh ragazzi Potenza alta La v6 È un faro Ragazzi È veramente un faro Rivediamo la v2 Eccola qua V2 A potenza alta Vai con la v6 Mauro Eh ragazzi È un'altra roba È un'altra roba Ragazzi V2 Turbo Modalità turbo Ha un raggio penetrante Questa torcetta Incredibile Ragazzi Va veramente lontanissimo Vediamo la v6 Eh ciao Con la v6 Ragazzi È giorno 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 Torniamo alla v2 Ragazzi Tanta roba Comunque fanno veramente Un mare di luce Questa torcettina Non mi aspettavo Veramente così tanta luce Ragazzi Vi faccio vedere Le modalità speciali Con tre click Uno due tre Entriamo In strobo E in discoteca Ragazzi Poi tenendo schiacciato La torcia Diventa lampeggiante Vedete Tenete schiacciato ancora E la torcia Lancia il segnale Di SOS Vedete La torcia Lancia proprio il segnale Scandisce Il segnale Di SOS Questa cosa è veramente Una figata Poi schiacciate ragazzi E tornate A modalità normale Tanta roba Eccoci qua ragazzi Dopo le prove in esterna Ragazzi È la decima volta Che la rifacciamo Il successo di tutto In quelle prima Tra cui Mauro che continua a ridere Non mi fa andare avanti Ragazzi Abbiamo provato Le due torce nel bosco Due dimensioni Completamente diverse Ovviamente Ho lasciato A Mauro Quella grossa Perché è un po' complessato Soffre un pochino Di micropegna Non so se micropegna Si può dire Su youtube Però me l'abbiamo detto Ho rovinato Il parco amanti Per sempre Praticamente E ti ringrazio Per questo Mi ringrazio Perché è sua moglie Nell'altra stanza Che lo aspetta Ragazzi A parte le stupidate Due torce diverse Due dimensioni Completamente diverse La catapul V6 È un faro Potentissimo Fagiorno Lontanissimo È tutto La piccolina Ragazzi La mini catapul V2 Per le sue dimensioni Prende veramente lontano È veramente Un bel raggio Ragazzi Una bella luce Non mi aspettavo Fosse così potente Per la dimensione Che è veramente piccola L'unico difetto Che gli abbiamo trovato È il fatto Che non ha la clip Ragazzi Non ha nella clip Nella poche Mentre la V6 Con la poche Ve l'attaccate in cintura Non ha la clip Ma ha la poche Qui non avete Né clip né poche Quindi Se la dovete mettere In tasca O nel marsupio Senza non corarla Da nessuna parte Poi dovete cercarla Per trovarla È l'unico difetto Che gli abbiamo trovato Perché ragazzi A potenza Fa veramente Un mare Un mare di luce Mauro Di qualcosa ai ragazzi Visto che la prima volta Che sei qua Ti vedono E mi direte Ma uno più bello Non ce l'avevi Non ce l'avevo Ragazzi C'era solo lui Ma perché vuole essere Il più bello di tutti Vuole essere lui Quindi non può Bellezza inarrivabile Quindi non puoi prenderlo più bello Se no Dai di qualcosa Che se no Facciamo le comiche Vabbè Niente Volevo ringraziare Floriano Per il suo lavoro E a proposito di questo Mi raccomando Fate una Fate le donazioni Gliel'ho detto Prima Di ai ragazzi Di fare le donazioni Spontaneo 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 Fate la donazione Su Paypal Esatto C'è il tastino Paypal Ok Fate la donazione Esatto Esatto Ragazzi Ringrazio veramente Mauro Perché con due torce Ieri sera Due torce Cavalletto Nel bosco Se non c'era Mauro Era un po' Un casino Meglio andare In due Ovviamente Ragazzi Dalle sorelle True Night Dalla Catapool V6 Dalla Catapool Mini V2 Da Mauro Che ringrazio Dal parquetto Del tagliagole Tutto Da Mauro Che ringrazio Dal parquetto Del tagliagole Tutto Buona giornata E Ciao